Biri dove? Aspetta, occhio Biri che lì nel corridoio ci sono eh, stai giù, stai giù. And welcome back, tornati finalmente in un nuovo gameplay, io sono M dell'Smt e questo è un gameplay action airsoft chiamatelo come cavolo volete voi. Qua siamo a Caseigerola, provincia di Pavia, eravamo in un ex fornace, bellissima giocata, grandissime persone, in pratica adesso la prima parte è un semplice allenamento, riscaldamento, due squadre, una vita, vince la squadra che appunto rimane in vita. Allora in pratica qua siamo andati sulla parte destra, eravamo sul primo piano della fornace. Rossi o Verdi? Ero rimasto da solo contro, adesso non ricordo male, ma erano quattro, cinque, forse sei, nemici. Qua uso il cambio spalla, sto sparando col braccio sinistro, ora ricambio sul destro. Avrete notato che sul mio APS è cambiata l'ottica, ho messo l'otticonza dello sniper. Qua ne prendo uno. Quattro a due signori e signori, location spettacolo. Una puttana. Grandi peli. Quattro a due signori. a questo punto lo prendo visto che era la fame qua in pratica era una mia compagna di squadra e ho dovuto sparargli perché gli avevo chiesto era nemico ma non mi ha risposto allora gli ho dovuto sparare mi muovo qua si cambia totalmente game ed è la classica bandiera al centro con le due squadre scusa ok scusa scusami chi riesce a prendere la bandiera la difende per 10 minuti appunto quando si veniva presi si ritornava al punto di partenza si aspettava se non ricordo male 2-3 minuti e si rientrava ricarico purtroppo non ho potuto farvi gli zoom perché ero con l'ottica appunto quindi sparavo veramente lontano e l'immagine sarebbe venuta nettamente sgranata quindi ho preferito solamente mettervi quando colpisco uno la scritta come adesso per dire che dovrebbe arrivare uno esatto come la scritta che è semplice ed efficace ah scusa che dica mi passi davanti giusto quando lo spara troppo qua stavo per sparare quello lì passa davanti andiamo 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 scuso però anche lui doveva farci un po' attenzione qua li stiamo pressando di brutto e alla fine riusciamo a prendere la bandiera quindi si ritorna giù noi difendiamo la bandiera per gli altri 10 minuti ok quando siamo tornati su perché nella parte dove dovevamo difendere la bandiera era noiosa non c'era molti kill alla fine abbiamo perso comunque l'hanno ripresa sinistra no c'è n'è una a destra qua spara uno non si dichiara dai ti ho preso zio orco l'hai visto sulla destra eh alleluia alla fine si dichiara per fortuna vai 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 ok mi muovo mi muovo ok buono ci sono avete visto il fascio di laser e poi però mi hanno preso mi hanno fatto un gran pelo attenzione a questi non sparate così alla talebano style solo il fucile fuori non si spara così signori no non si fa l'ho messo apposta ragazzi non sparate così vi prego è antisportivo a manetta l'arma fuori l'arma fuori con l'arco te lo vedi no no ti lo vedi ecco rientro qua mancava veramente pochissimo alla scodere dei 10 minuti perché una volta che sono scaduti i 10 minuti la partita era terminata e la difesa e quindi la squadra che difendeva aveva vinto quindi qua mancava pochissimo e stavamo spingendo di brutto e lì com'è? sì ci siamo? so pressione andiamo? 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 ok io l'ho preso ecco qua ecco qua non lo sapevamo ma erano finiti tutti erano tutti morti e niente la regola era appunto che la difesa aveva una vita l'attacco invece è infinito andiamo andiamo niente partita vinta vinta adesso dovevamo giù a difendere la bandiera però poi abbiamo fatto una pausa e si inizierà con un altro game e quindi con la seconda parte di questo ex fornace action gameplay chiamatelo il soft gameplay qua un comogeno rosso che ha sbarrato io sono M con questo video è tutto vi ricordo aspettate la seconda parte passate nei video che vedete qui nello schermo cliccateci sopra andrete direttamente sul video in descrizione vi troverete tutto pagina facebook instagram e altre robe che adesso non mi vengono in mente vi ringraziamo ancora per il supporto iscrivetevi al canale se lo avete ancora fatto se vi va di condividere questo giocato su facebook o comunque sui social network che usate voi fatelo pure e da M è tutto stay angry stay vero